Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Elisa e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Per la storia di oggi ci troviamo in Florida, più precisamente a Pensacola, una città portuale di circa 60.000 abitanti. Qui negli anni 80 vivevano Patricia Pafford e Ahmad Rivazfar insieme ai loro tre figli, Saie, la più grande di otto anni, Sara, la figlia di mezzo di sei e Arash, il figlio più piccolo di quattro anni. Patricia era una di quelle persone che forse avrebbe fatto meglio a non fare figli, aveva una vita decisamente sregolata, non si occupava minimamente dei bambini, non gliene fregava proprio niente, non è che fosse violenta o aggressiva nei loro confronti, ma gli dava praticamente zero attenzioni, cosa che ovviamente tutti e tre i bambini pativano abbastanza. Ahmad, al contrario, era un padre, un genitore molto presente, forse a maggior ragione anche per sopperire un po' alla mancanza di sua moglie, riempiva i suoi figli di attenzioni e di tempo ovviamente per loro, per fargli fare i compiti, per portarli in giro da qualche parte. Questa differenza abissale tra di loro ovviamente generava un sacco di conflitto all'interno della coppia, i due litigavano tantissimo, Ahmad rinfacciava praticamente ogni due giorni a Patricia il fatto che non era presente per i suoi figli. Una cosa tira l'altra, nel 1988 la coppia decise di divorziare e iniziò una vera e propria battaglia legale per la custodia di questi tre bambini. Ahmad in particolare era molto preoccupato per l'incolumità dei suoi figli nel caso in cui sarebbero rimasti a vivere con Patricia perché appunto come vi dicevo questa donna non si occupava minimamente di loro. Quindi nel mentre di questa definizione tra virgolette familiare i bambini passavano del tempo con la madre, la madre non si occupava di loro, la figlia più grande che Saie che comunque vi ricordava solo otto anni, c'era una bambina esattamente come i suoi due fratellini, si occupava molto spesso dei fratellini più piccoli. Di nuovo nonostante il fatto che a otto anni magari un bambino giustamente ha pensieri diversi che occuparsi, far da mangiare, far lavare i denti e mettere a letto i propri fratellini. Ahmad le tentò davvero tutte per farsi affidare totalmente i figli, mise di mezzo anche i servizi sociali che fecero diverse visite a casa di Patricia e per qualche motivo, come in realtà capita purtroppo in tanti casi, non ascoltarono le preoccupazioni di Ahmad, quindi la custodia alla fine rimase ripartita al 50% tra i due genitori. C'era un problema grosso però, ovvero che Ahmad per motivi lavorativi si sarebbe dovuto trasferire a New York e il tribunale stabilì che per non turbare ulteriormente i bambini che stavano già affrontando il divorzio dei genitori, tutti e tre sarebbero dovuti rimanere a tempo pieno a vivere a casa di Patricia che invece sarebbe rimasta a Pensacola, la città dove comunque avevano frequentato le scuole, avevano gli amici eccetera. Purtroppo davanti alla decisione del tribunale, Ahmad non poteva più fare niente, quindi non gli rimase altro che cercare quando glielo permetteva il lavoro e i soldi anche di viaggiare fino a Pensacola, affittare una stanza o comunque andare in un hotel lì per vedere i suoi figli. Ora questo è un po' il background di questa famiglia, adesso prima di continuare con la storia vorrei dirvi appunto che questo video sarà un pochino diverso dal solito, perché questa storia è diversa dal solito e per questo motivo ho deciso di strutturare la narrazione in una maniera un po' più cronologica, io solitamente tendo a raccontare i fatti, diciamo come vengono tirati fuori dalle indagini, mentre questa volta seguirò proprio le tempistiche cronologiche degli eventi. Tornando alla nostra storia, quindi i tre bambini continuarono a vivere con la loro madre, arrangiandosi come potevano, Saie la più grande si occupava di loro quasi come fosse una loro sorella maggiore, ma molto più grande degli otto anni che aveva, ma ovviamente continuava ad essere una bambina di otto anni, con le preoccupazioni e insomma il ragionamento di una bambina di otto anni, quindi era davvero difficile sostituire a otto anni una figura adulta, nonostante Saie fosse, ma forse anche fosse stata costretta a diventare molto 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 matura per la sua età. Patrice dal suo lato continuava la sua vita tra virgolette sregolata, nel senso che usciva quasi tutte le sere, a volte passava la notte fuori lasciando i tre bambini da soli tutta la notte, a volte capitava addirittura che magari il weekend sparisse per un paio di giorni senza dire niente a nessuno e questi bambini si trovavano da soli a doversi gestire da soli per due giorni. Una cosa che mi ha stupita molto è il fatto che nonostante ci fossero state diverse segnalazioni su questa situazione qua, in primis ovviamente come vi ho detto dal padre Ahmad, ma in realtà anche ad esempio dalla maestra della bambina più grande, Saie, che un giorno aveva insomma sentito una frase che la bambina aveva detto a una sua compagna di classe, del tipo che tornava a casa perché sarebbe rimasta da sola con i suoi fratelli e la maestra insomma le aveva fatto qualche domanda per indagare un pochino su questa cosa. Era uscito il fatto che sarebbe rimasta da sola la bambina insieme ai suoi fratellini più piccoli quel pomeriggio, la maestra aveva contattato i servizi sociali, c'era stato di nuovo una sorta di ispezione, penso che si chiami quindi quando i servizi sociali si presentano e vedono un po' lo stato della casa, la situazione dei bambini, cose del genere, però non è mai stato fatto nessun tipo di tentativo di insomma togliere questi bambini dall'affidamento di questa donna. In ogni caso poco dopo il divorzio Patricia aveva iniziato a frequentare un altro uomo, di nome Raymond Wyke Jr., tutti lo chiamavano Ray, quindi continuerò a riferirmi a lui come Ray. In pochissimo tempo quest'uomo iniziò a frequentare abbastanza quotidianamente l'abitazione, non si era proprio trasferito al 100% con loro, però diciamo che andava a casa loro praticamente ogni giorno. Ray era un uomo che, utilizzo proprio il termine che hanno usato le persone che lo conoscevano, era un uomo strano, strano nel senso che vabbè da un lato era molto introverso, parlava molto poco, erano di quelle persone che stanno molto sulle loro, e fin qua ovviamente c'è ognuno c'è il suo carattere, ma definirono particolarmente strano il fatto che sembrava trovarsi meglio in compagnia di bambini che di uomini o donne, insomma persone della sua età. Nel senso che quando c'erano situazioni tipo, non lo so, matrimoni, festi in famiglia, ritrovamenti in famiglia, eventi, cose del genere, Ray passava un sacco di tempo con dei bambini invece con gli altri invitati, con le altre persone della sua età. E anzi, se con le persone adulte si comportava in maniera molto introversa, era molto taciturno, stava molto sulle sue, con i bambini è il contrario, era molto estroverso, parlava tantissimo, li faceva un sacco ridere, cose del genere. Niente di, diciamo, allarmante o di particolarmente esplicito, però sicuramente qualcosa che a molte persone sembrava strano. Ray si inserì abbastanza bene nella famiglia, anzi cercò quasi di ricoprire un po' una sorta di figura paterna, era molto più interessato lui a questi tre bambini che non la sua fidanzata e madre di questi bambini, Patricia. Li riempiva di attenzioni, di giocattoli, di, insomma, di regali, cose del genere. E questi poveri bambini, che comunque erano sempre stati abituati dalla loro madre a non ricevere nessun tipo di attenzione o di affetto da parte sua, ovviamente rimasero piacevolmente sorpresi da tutte queste attenzioni di quest'altro adulto e anzi si affezionarono quasi, insomma, a questo nuovo fidanzato della madre. E tra l'altro, per questo motivo, cioè per il fatto che questo Ray volesse passare più tempo con questi bambini, anche Patricia finiva con lo stare più tempo a casa. Quindi potete immaginare come agli occhi di una bambina di otto, un'altra bambina di sei e un bambino più piccolo di quattro, questo Ray fosse quasi una persona di cui essere totalmente grati, no? Per la situazione che stavano vivendo in quel momento. Penso che a questo punto sia palese dove andrà una parte della storia. Vi assicuro che però sarà solo una piccolissima parte di quello che accadrà, insomma, nella vita di questi bambini. Passarono i mesi e Ray iniziò a sentirsi sempre più a suo agio, evidentemente, nella situazione. Iniziò ad adottare alcuni comportamenti che inizierono a far insospettire anche Patricia, che, insomma, ai suoi figli prestava pochissima attenzione, quindi immaginatevi quanto dovessero essere allarmanti questi comportamenti per far scattare un campanellino a Patricia. C'erano delle situazioni in particolare dove Ray sembrava in qualche modo preferire tra i tre figli Saie, la bambina più grande. A volte la prendeva e la portava in un'altra stanza, rimanevano da soli, insomma, succedevano un po' di queste cose qua. Una sera in particolare Patricia lo sorprese nella cameretta che Saie condivideva con Sara. Ci fu una litigata. Alla fine, oltre che a cacciarlo ovviamente di casa, troncò anche la relazione che aveva con quest'uomo. Non denunciò però la cosa alla polizia, quindi non partirono delle indagini o una segnalazione di qualche tipo nei confronti, direi. L'uomo se ne andò, non contattò più Patricia e piano piano le cose tornarono alla normalità, cioè, meglio dire, alla loro normalità, ovvero a Patricia che non se ne fregava assolutamente niente dei propri figli. Quindi la loro vita tornò quella di una volta, Saie riprese ad occuparsi al 100% dei suoi fratellini, si occupava di prepararli da mangiare, di, insomma, farli vestire per la scuola, di fargli lavare i denti alla sera, di metterli a dormire, insomma, le classiche cose di cui si occupano solitamente i genitori e di cui prima si era sempre occupato suo padre Ahmed e sua madre Patricia, in realtà, mai. Tutto ciò fino alla notte del 21 settembre 1988. Quella sera in particolare Patricia era uscita con i suoi amici, come in realtà altre sere durante la settimana. Saie aveva preparato da mangiare i suoi fratellini, aveva finito di controllare i compiti di sua sorella Sara, li aveva fatti, insomma, preparare per andare a letto, lavare i denti, cose del genere, dopodiché si erano messi tutti a dormire. Passarono le ore e arrivò mezzanotte e mezza circa. Di Patricia nessuna traccia era ancora fuori a fare Baldoria. I bambini non se ne erano accorti, ovviamente, ma fuori dalla loro casa c'era una macchina parcheggiata. Su questa macchina c'era Ray, che era in realtà lì da diverse ore. Aveva visto Patricia uscire e stava di fatto aspettando che i bambini si addormentassero prima di agire. Verso mezzanotte e mezza l'uomo uscì dall'auto e portò con sé un tubo di metallo che utilizzò per forzare la porta d'ingresso. Una volta entrato, richiuse la porta alle sue spalle ed entrò nella cameretta che Saie contivideva con sua sorella Sara. Si avvicinò prima a Saie, la prese in braccio, la bambina non si svegliò, uscì e la portò nella sua macchina. Dopodiché chiuse la macchina, tornò indietro, prese Sara, la portò fuori e la mise anche lei appunto in auto. Nessuna delle due bambine si svegliò in questa fase qui, neanche l'altro bambino che stava dormendo appunto in casa. Dopodiché l'uomo partì e viaggiò per circa una mezz'oretta quando finalmente Saie si svegliò. Ovviamente era un attimo stranita dal trovarsi non nel suo letto ma in un'auto, riconobbe subito Rei e gli chiese dove stessero andando, come mai si trovassero lì. Anche Sara si sveglia e Rei le rassicura dicendo loro che stavano andando da loro madre. Quindi sia Saie che Sara si tranquillizzarono e anzi tornarono a dormire. Ad un certo punto Rei devia dalla strada principale, prende una stradina sterrata che praticamente si addentra in un bosco che c'era lì vicino. Si fermarono in mezzo al nulla, l'uomo scese dall'auto, Sara e Saie si svegliano di nuovo, sono un attimo stranite dal fatto che si trovino in mezzo a un bosco. A questo punto Rei aprì la portiera dal lato di Sara, la prese e iniziò a legarla e ovviamente a questo punto nonostante le bambine avessero 8 e 6 anni, capirono che c'era qualcosa che non andava, iniziarono ad agitarsi di nuovo, entrambe iniziarono a piangere. Dopo aver finito di legare Sara, Rei la rimise dentro l'auto, fece scendere Saie e chiuse da fuori l'auto in modo che Sara non sarebbe potuto uscire da lì. Insieme a Saie si allontanò un po' dall'auto, la fece sdraiere per terra e iniziò ad abusare di lei ripetutamente. Saie ovviamente come comprensibile continuava a piangere, a ribellarsi, purtroppo però erano praticamente in mezzo a nulla, non c'erano abitazioni lì vicino, non c'era nessuno che potesse aiutarla. Gli abusi durarono ore purtroppo, al termine delle quali l'uomo la fece rivestire, le disse di mettersi in piedi e a questo punto Saie gli chiese che cosa sarebbe successo. Rei le rispose, di le tue preghiere e fu così che Saie iniziò a pregare. Rei andò dietro di lei, tirò fuori un coltello e le tagliò di fatto la gola. Poi tornò indietro, prese Sara, fece le stesse cose che aveva fatto a Saie e tagliò anche a lei la gola. Rei non lo sapeva ma in tutto questo schifo era accaduto, avvenuto un miracolo o insomma come volete chiamarlo voi, ovvero che il taglio che aveva fatto alla gola di Saie non era né profondo e non era, non aveva tantomeno reciso nessuna zona vitale della bambina. Saie in un momento di lucidità aveva capito che quel taglio non era qualcosa che avrebbe compromesso diciamo le sue funzioni vitali, quindi aveva praticamente fatto finta di essere morta, cioè si era accasciata continuando a tenersi il taglio con la mano in modo da insomma cercare di bloccare l'emorragia ed era rimasta immobile, immagino solo quanta forza di volontà abbia richiesto questa cosa, era rimasta così ferme immobile anche nel mentre che aveva sentito appunto le urla di sua sorella poco distante da lì. Rei una volta fatto lo stesso con Sara si alzò per andare a controllare che Saie fosse effettivamente morta e quest'uomo tentò di capire questa cosa praticamente prendendola a calci e di nuovo questa bambina fece finta di niente, cioè rimase inerme con le ulteriori servizi insomma che gli inflisse quest'uomo. Soddisfatto del fatto che appunto a questo punto credeva fosse deceduta anche lei, l'uomo si avviò verso l'auto calpestando quello che pensava fosse il corpo senza vita di Saie. E la bambina rimase immobile, ferma, fino a quando non sentì l'auto, il rumore dell'auto allontanarsi, dopodiché salto subito in piedi, corse vicino alla sorella, purtroppo a quel punto non c'era assolutamente più niente da fare, Sara non aveva avuto la stessa, se possiamo definire la fortuna, di Saie, infatti il taglio era molto profondo, insomma purtroppo non c'era più niente da fare per lei. Saie una volta ripresasi dalla situazione ovviamente, si alzò in piedi e iniziò a camminare magari di fatto diciamo alla cieca nel bosco e fece un errore, ovvero che andò dalla parte opposta rispetto a dove era andato, da dove erano arrivati praticamente, questo perché aveva giustamente il terrore di rincontrare Rei, solo che facendo così, diciamo che se avesse seguito la strada che avevano fatto all'andata, quindi se fosse andata nella direzione di Rei sarebbe arrivata molto prima su una strada più trafficata. Quindi a questo punto la ragazza scalza, con i vestiti del pigiama, al buio, spaventata e soprattutto con una ferita al collo, si mise a vagare per il bosco, camminò per diverso tempo fino a quando finalmente non raggiunse una strada asfaltata, insomma una strada effettiva. La mattina seguente era il 22 settembre, alle 6.30 del mattino c'era una coppia di anziani che erano in macchina e stavano viaggiando verso casa di un loro familiare. Si erano messi in auto così presto perché il viaggio sarebbe stato lungo, insomma volevano arrivare per l'ora di pranzo. Stavano viaggiando tranquillamente quando in lontananza videro una bambina in mezzo al nulla che camminava verso di loro, praticamente verso la loro direzione. E quella era una strada diciamo sì ufficiale ma non era molto trafficata soprattutto a quell'ora del mattino, soprattutto da una bambina da sola. In più man mano che si avvicinavano videro che questa bambina non solo era coperta di sangue ma si stava tenendo la mano diciamo sul collo, sulla gola. Quindi fu così che si fermarono, constatarono che questa bambina aveva un taglio alla gola, la caricarono in macchina e chiamarono ovviamente il 911. Pochi minuti dopo arrivò l'ambulanza che diciamo medicò subito la ferita della bambina, la caricarono e la portarono all'ospedale più vicino. Durante questo tragitto in ambulanza Saie perse i sensi, li riprese solo qualche ora dopo, quando era già in ospedale, le avevano già medicato, insomma e ricucito la ferita. C'erano già con lei dei poliziotti dei detective che non appena appunto si svegliò le fecero tutte le domande del caso. Saie fu in grado benissimo di descrivere tutto quello che era accaduto, disse il nome e cognome della persona che le aveva fatto questo, disse che sua sorella era ancora lì. Descrisse anche in maniera molto dettagliata il veicolo che aveva usato Ray per portarle lì e poi in seguito per scappare. Nel frattempo di tutto ciò Patricia non era ancora tornata a casa, era ancora fuori, insomma chissà dove. A casa però il fratellino più piccolo di 4 anni, il piccolo Arash, si era svegliato, era andato a cercare le sue sorelle, non le aveva trovate a casa quindi ovviamente si era spaventato, si era messo a piangere, ad urlare. E questa cosa ovviamente attirò l'attenzione dei vicini che decisero di chiamare la polizia. La polizia arrivò, trovò la porta della casa dell'ingresso insomma forzata, trovarono il bambino, ovviamente lo consolarono e purtroppo questo bambino non fu in grado di dire cos'era successo in primo luogo perché stava dormendo, in secondo luogo perché aveva 4 anni ed era molto spaventato. Nel frattempo una squadra di poliziotti si era recata nel punto dove avevano poi ritrovato, quei signori avevano ritrovato Saie, avevano diciamo setacciato tutta quella zona, avevano trovato Sara, purtroppo per lei non c'era più niente da fare. In quella zona trovarono in realtà un sacco di prove, trovarono un pezzo di maglietta strappata che era un pezzo della maglietta di Ray, trovarono delle tracce di sangue che non combaciavano né con quello di Sara né con quello di Saie, ma combacerà poi in seguito, ve lo anticipo già, con quello di Ray. Trovarono delle tracce di pneumatici, trovarono delle impronte di scarpa. Nello stesso momento un'altra squadra di poliziotti si era recata nella residenza dove viveva Ray. Avevano il dubbio, avevano paura che quest'uomo potesse essere armato, quindi fecero da protocollo, insomma cerchiarono questa casa e utilizzarono un megafono per parlare insomma con lui, gli dissero di uscire con le mani bene in vista. Nessuno però dalla casa di Ray rispose, quindi dovettero praticamente chiamare il numero fisso in quella casa per poter finalmente parlare con l'uomo che rispose al telefono, tra l'altro quando gli dissero al telefono sei circondato, esci con le mani bene in alto, lui disse tipo cos'è una sorta di scherzo e questa persona gli dice no, non è assolutamente uno scherzo. Dopo un po' di tire molla riuscirono a convincere ad uscire, lo arrestarono e lo portarono in centrale. Ray per tutto il tempo e per anche il processo si dichiarerà innocente, vabbè ovviamente non venne considerata la sua diciamo dichiarazione di innocenza. Inoltre analizzarono anche il veicolo di Ray che era parcheggiato lì davanti alla sua abitazione, anche lì trovarono delle tracce di DNA che saranno riconducibili a Sara e a Saie. In più trovarono anche la maglietta dalla quale era stato strappato quel pezzo di stoffa che hanno ritrovato sulla scena. Diciamo che di prove ce n'erano proprio un sacco, considerato anche il fatto che c'era una vittima che era sopravvissuta. Nel frattempo finalmente Patricia si degnò di tornare a casa, la polizia la stava aspettando lì, l'arrestò, la informarono di quanto era accaduto, viene arrestata e condannata per abbandono di minore, le daranno due anni di carcere, che vabbè possono essere pochi o tanti a seconda della vostra opinione. Io penso che il ruolo di Patricia sia stato decisamente indicativo in tutto quello che è accaduto. Non dico che magari non sarebbe successo niente se fosse stata a casa, magari Ray avrebbe fatto qualcosa anche a lei, però penso avesse la responsabilità delle persone diciamo che avvicinava ai suoi bambini. Ahmad a New York venne notificato, venne avvisato della situazione, ero ovviamente distrutto per la perdita di sua figlia Sara, ma ha preso ovviamente il primo aereo per recarsi nel minor tempo possibile dagli unici due figli che gli erano rimasti. Iniziò il processo e Saie tirò fuori un coraggio... Secondo me queste storie qua ne ho raccontate diverse di sopravvissute bambine. E' impressionante a mio parere la forza che può tirare fuori un bambino in situazioni del genere. Non lo so, non so se scatti tipo un istinto di sopravvivenza, comunque mi sorprende ogni volta insomma che mi informo su queste storie. Fatto sta che nonostante, vabbè in realtà al momento del processo aveva nove anni, comunque sempre piccolissima, nonostante tutto il trauma subito, tutto quello che aveva sperimentato insomma nell'anno precedente, si presentò al processo e testimoniò davanti al suo aggressore, raccontando per filo e per segno tutto quello che era accaduto. I knew I had to testify, this was for Sarah, and I wanted to make sure that she knew I did good for us. Did he say anything to you before? He cut your throat? Yes. Did he say? He said say a prayer. Say a prayer? Yeah. Al termine del processo Ray viene dichiarato colpevole di omicidio per Sarah, tentato omicidio per Saie, aggressione, violenza sessuale e rapimento per entrambe. La giuria all'unanimità lo condannò alla pena di morte, cosa che in realtà non si concluse, l'uomo fece diversi appelli, l'ultimo dei quali nel 92, ma questo uomo morirà in realtà poi in prigione nel 2004 per un tumore ai polmoni. Saie e suo fratello Arash ovviamente vennero tolti dall'affidamento della loro madre e vennero affidati al padre Ahmad, andarono a vivere con loro a New York. Ovviamente per loro fu difficile, molto di più ovviamente per Saie, piano piano riuscirono a superare quello che era accaduto. E Saie dimostrò ancora una volta quanta forza può avere una bambina. Riprese totalmente il controllo della sua vita, ricominciando ad andare a scuola, non lasciò che l'esperienza che aveva vissuto in qualche modo limitasse la sua vita futura, si diplomò, divenne poliziotta, era una cosa che aveva deciso da poco dopo, insomma, l'aggressione. Il suo obiettivo era quello di lavorare facendo effettivamente del bene e togliendo dalla strada soggetti che avrebbero potuto fare del male. Tra l'altro lavora tutto in realtà, è ancora adesso una poliziotta, in particolare proprio in una sezione, non so come definirla, di polizia che si occupa proprio di abusi su minori. Si è fatta una famiglia tutta sua, si è sposata, è diventata mamma, e continua ancora oggi a raccontare la sua storia nella speranza di dare qualche tipo di appoggio, supporto e fiducia, insomma, alle persone che hanno vissuto esperienze simili alla sua. Ha una relazione bellissima con il padre, che è ovviamente orgogliosissimo di lei, di tutto quello che è riuscita a fare nella sua vita, nonostante questa esperienza atroce che aveva vissuto da più piccola. Sara, la sua sorellina, manca ancora a tutti, sia a lei che a suo padre. In realtà anche Arash dice ancora di avere dei ricordi, nonostante fosse molto piccolo, avesse solo quattro anni di sua sorella. Saia dice che ancora oggi pensa a sua sorella tutti i giorni, e tutto quello che ha fatto, tutta la forza che ha tirato fuori, anche per parlare al processo, e soprattutto per fare tutto quello che è riuscita a fare, a realizzare nella sua vita, l'ha fatto anche e soprattutto per sua sorella. La nostra storia si conclude così. Era una storia particolare, tra l'altro sono molto orgogliosa di me di essere arrivata fino alla fine senza lacrimare. Mi danno una fiducia nell'umanità superiore a queste storie di sopravvissuti. Non so se è un caso, tutti quelli che ho apprezzato abbastanza da portare sul canale di sopravvissuti, sono per ora tutte storie di sopravvissute di bambini o comunque ragazzine molto giovani. Penso che facciano davvero tanto rivalutare la nostra vita quotidiana, anche a noi persone che fortunatamente non hanno, e vi auguro di non finirci mai in situazioni del genere, però soprattutto a persone che non hanno mai subito quel tipo di esperienze, fa davvero rivalutare tanto, secondo me, la situazione quotidiana di ognuno di noi, o almeno io la penso così. Grazie come al solito di essere arrivati fino a questo punto del video, se volete sostenere il canale vi ricordo che potete iscrivervi qui, mettere un mi piace, commentare, seguirmi su Instagram, mi trovate come Elie Capano, se volete ho anche un canale dei vlog che si chiama Elie Capano Vlog. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con un prossimo video. Per il caso di oggi è tutto, noi ci rivediamo con un prossimo video.